parlando del secondo secolo abbiamo insistito nel ricordare come per i primi cristiani fosse importante l'opposizione fra musica pagana e musica cristiana troveremo questo tema anche negli scritti di clemente alessandrino e vado a citare e facciamo scendere invece dall'alto dal cielo la verità insieme con la splendidissima sapienza verso il monte sacro di dio e il coro sacro dei profeti ed essa brillando di una luce che splende quanto più lontano è possibile illumini dappertutto coloro che si rotolano rotolano nelle tenebre e liberi gli uomini dall'errore tendendo la sua altissima mano cioè l'intelligenza verso la salvezza ed essi rialzate le loro teste e levati gli occhi verso l'alto lascino il citerone e l'elicona ed abitino sion da sion infatti uscirà la legge e il verbo del signore da gerusalemme cioè il verbo celeste il genuino competitore incoronato nel teatro di tutto il mondo e il mio è un uomo canta non sul modo di terpandro né su quello di capione e neppure su quello frigio o litio o dorico ma sull'eterno modo della nuova armonia che ha nome da dio il canto nuovo il canto levitico che duolo ed ira lenisce e dà l'oblio d'ognimale dolce e verace farmaco contro il dolore è stato infuso in questo canto mi sembra perciò che quel trace e il tebano e il metimneo siano stati una sorta di uomini che non sono uomini degli impostori e che col pretesto della musica avendo corrotto la vita umana per mezzo di qualche abile incantesimo essendo invasati dal demone per condurre gli uomini alla rovina celebrando delle efferatezze nei riti dei misteri e facendo dei lutti l'oggetto di onori divini per primi abbiano tratto gli uomini al culto degli idoli e con pietre e con tavole cioè con statue e pitture abbiano posto le fondamenta alla balordaggine della consuetudine aggiogando all'estrema schiavitù coi loro canti e i loro incantamenti quella libertà veramente bella di coloro che sono liberi cittadini sotto il cielo ma non tale è il mio cantore né è giunto per sciogliere in lungo tempo l'amara schiavitù dei demoni che ci tiranneggiano ma facendoci passare dal gioco dei demoni al gioco mite e filantropico delle pietà di nuovo richiama verso il cielo quelli che sono stati scagliati sulla terra solo lui infatti fra quanti mai furono manzue faceva le fiere più selvaggio di tutte cioè gli uomini manzue faceva volatili cioè gli uomini leggeri rettili cioè gli ingannatori leoni cioè gli iracondi porci cioè gli uomini dediti ai piaceri lupi cioè gli uomini rapaci pietre e legno sono gli inintelligenti ma anche più sensibile insensibile delle pietre è l'uomo immerso nell'ignoranza testimone venga a noi la voce profetica che s'accorda col canto della verità voce che compiange coloro che si sono consumati nell'ignoranza della follia dio è capace di far sorgere da queste pietre dei figli ad abramo dio il quale avendo commiserato la grande stupidità e la durezza di cuore di quelli che sono diventati pietre rispetto alla verità destò il seme della pietà dotato del sentimento della virtù da quelle pietre cioè dalle genti che hanno creduto nelle pietre un'altra volta in un certo punto ha chiamato prole di vipere certi ipocriti velenosi e versipelle che tendono insidia la giustizia ma anche di questi serpenti se qualcuno di sua volontà si penta seguendo il verbo diventa uomo di dio altri chiama allegoricamente lupi vestiti di pelli di pecore intendendo significare i rapaci in forme di uomini e tutte queste selvaggissime fiere e le consimili pietre lo stesso canto celeste le trasformò in uomini mansueti eravamo infatti eravamo una volta anche noi dissennati disobbedienti erranti schiavi di piaceri e desideri vani viventi nella malizia nell'invidia odiosi e odiantici l'un l'altro come dice la scrittura apostolica ma quando apparve la bontà e la filantropia di dio nostro salvatore esta ci salvò non per effetto delle opere che noi compiemmo in giustizia ma secondo la sua misericordia vedi quanto potè il nuovo canto e questo è tratto dal protetreptico ai greci la lunga citazione ci consente però di osservare come questa dinamica sacro profano fosse ben chiara ai primi scrittori cristiani come lo sarà poi nei secoli a venire cristo sarà il nuovo orfeo come a volte verrà raffigurato reinterpretando e trasformando il mito vagano per donare importante dirlo una nuova lettura cristianizzata mi è sempre sembrato importante sottolineare anche in linea con una conferenza tenuta dal cardinale alfredo ottaviani su questo tema una fondamentale continuità fra la roma pagana e quella cristiana per via di una trasformazione interna che rigetta quanto di profano vi era nella religione romana ma che anche assume alcune vestigia della stessa come farà la chiesa successivamente anche con gli imperi medievali non dimentichiamo che siamo anche nel tempo in cui comincia a delinearsi il latino come lingua liturgica un latino appunto che sarà rinnovato dal suo uso cristiano e che noi oggi chiamiamo latino ecclesiastico penso si dovranno dedicare più studi a questo importante processo di trasformazione